Questo video riguarda i migliori tre console DJ. Il vincitore della qualità è il Numark Mix Stream Pro. Schermo touch da 7, jogwheel capacitive da 6 e con smart scratch, motore sonoro by engine DJ, compatibile con le librerie musicali di serato DJ, record box e tractor. Importa le tue librerie da una scheda SD, drive USB o libreria Dropbox senza preanalisi delle tracce e riproducile con gli altoparlanti integrati e controllo di volume dedicato. Accedi a milioni di tracce su Tidal, Bitport Link, BitSource Link e SoundCloud, naviga tra i vari servizi di streaming e carica mix a tracce da qualunque sorgente. Collegati in wireless al sistema Philips e Smart Home per uno spettacolo di luce automatizzato e sincronizzato, grazie al motore engine DJ. Crossfader, mixer con EQ a tre bande e due deck con controlli di volume, SYNC, Q-Stop, Play-Pause, 4 pad performance a doppio layer con 4 modalità Pro DJ e sezione FX con 4 algoritmi e 2 interruttori. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Pioneer DJ 400. Il DDJ 400 è lo strumento ideale per tutti gli aspiranti DJ. I comandi consentono di apprendere facilmente le nozioni di base, mentre le numerose funzioni ti aiuteranno a sviluppare le tue abilità. Il controller è compatibile con la funzione Tutorial di Recordbox DJ, che spiega passo per passo il funzionamento delle apparecchiature in tri-level. Anche se non ti sei mai avventurato dietro la console, potrai imparare con facilità a praticare la professione del DJ. Grazie al design leggero e alla facile trasportabilità, puoi spostare il DDJ 400 ovunque, in casa di amici per esercitarvi insieme, a feste private, sale o piccoli eventi. E se vuoi passare al livello successivo, mixare diventerà facile anche nella console DJ da discoteca, poiché il DDJ 400 eredita tratti e design dalla nostra gamma professionale. Il layout dei pulsanti dedicati play-pause EQ, beat FX, controlli low-ping stile CDJ e altro ancora, sono gli stessi del REN XS2. Il vincitore del premio è il Numark Party Mix 2. Sistema completo algoritm J e serato DJ. Attrezzatura USB per DJ principianti con due deck di controllo, interfaccia audio, connettività USB plug-and play per Mac, PC, iOS. Luci a LED sincronizzate al mix, pulsanti DSYNC, play-pause QE, due deck per DJ con grandi jogwheel sensibili al tocco. Effect QE, loop e sampler filtri a manopola e cursori di pitch su ciascun deck, gestione della libreria per il browsing barra caricamento tracce. Milioni di tracce in streaming riproduci la tua musica in streaming con serato DJ Lite o J Pro ai da provider come SoundCloud, Beatport Link, BeatSource Link e Tidal. Gestisci i tuoi mix e collega l'attrezzatura da DJ uscita cuffie uscita da un ottavo per il collegamento delle casse, mixer per DJ integrato con EQ a due bande, fader di canale e crossfader. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.